Io sto con Anna Capponi! Oggi è la giornata della solidarietà per Anna Capponi, il vigile urbano licenziato per la seconda volta. Anna Capponi aveva denunciato un caso di molestie sul posto di lavoro, ha subito un processo, era già stata licenziata una volta. Adesso è arrivato il secondo licenziamento, nonostante il parere positivo, invece è il giudice del lavoro. Certo, infatti. La cosa strana è questa, che dopo quattro anni di processo del lavoro, quindi al di là del processo penale che comunque era subentrato dopo il licenziamento, per fatti per i quali il comune già mi aveva licenziato prima e per fatti che poi in parte sono stata assolta e sono rimasti due fatti, uno nei confronti del comandante e uno nei confronti del sotto ufficiale per calunnia. Questo è vero. È così come è vero che loro parlano di sentenza di Cassazione. La Cassazione in realtà ha dichiarato il nostro ricorso inammissibile, quindi neanche la Cassazione è entrata nel merito. E quindi le prove che noi avevamo portato a discapito non sono state valutate in realtà, se non in parte perché la Corte d'Appello ha riformato la sentenza di primo grado. Dunque il secondo licenziamento perché è arrivato? Perché nel frattempo, quindi delle vicende, era passata in giudicato la sentenza, però quella d'appello, diciamo, perché non c'è una sentenza di condanna della Cassazione, perché è rimasta quella di condanna dell'appello. E lei cosa si aspetta dunque da questa vicenda? Io mi aspetto giustizia perché comunque quello che ho denunciato è accaduto. Lei si sente discriminata? Allora, a livello umano, a livello di discriminazione, perché, ripeto, si parla di luogo di lavoro e quindi i diritti sono fondamentali per tutti. Sì, ho fatto anche una denuncia circostanziata da allegata documentazione che la consigliera di parità naturalmente ha non solo acquisito, ma anche se sta qui ha reputato che c'è stata discriminazione. Cioè, io quando sono rientrata nel luogo di lavoro, non sono rientrata a fare quello per cui io mi ero altamente specializzata, ero andata a lavorare in procura, prima stavo all'ufficio urbanistica, ambiente, voi, insomma, sapete che ho fatto tutta una certa attività. Mi sono ritrovata relegata, prima senza stanza, poi in una stanzetta, cioè che manca l'aria, senza mansioni, senza alcunché, perché è vero che poi dopo mi hanno chiamato su al gabinetto del sindaco, però perché appena sono rientrata dopo dieci giorni in questo comando mi hanno rubato un borsellino, ci sono stati altri procedimenti penali contrapposti, ma a Nacapponi siamo tutti, perché non penso di essere l'unica discriminata, l'unica additata, ok. E le associazioni, le ragazze, i volontari, cioè mio marito sotto l'ombrella e sotto la pioggia, che in questi anni, umanamente, insomma, è stata dura, perché comunque mio figlio, che adesso ha 18 anni, è nato in un ambiente in cui ha trovato sempre la mamma a combattere, sempre con queste carte, le nottate, con gli avvocati, e mi ha sempre sostenuto e ha detto mamma, tu dovevi denunciare, tu hai fatto bene, perché dovevi stare zitta? Quindi penso che starmi zitta è finita.